Il primo numero di ragazza Cosa hai visto? Cavallo Gaia! Cavallo Gaia! Cosa hai bisogno di fare? Silla delle quarti! Vieni, poi il maron, perché è pieno di pianta finché è una boccata! Dai, che vuoi? Dai, fai il Cristiano! Fai una puntura! Fai una puntura! Fai una Cristiano insomma! Pi grande! Pi grande! Fai! 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 Ma su le gambe! Sì, ma finché non si voltano delle aree! Tu vuoi darci aree, no? No, non è che... Sì, ma siccome è... Roberto... Hai un buonico che... È un terrestre di qua! No, no, io ho curato, ho curato! Hai il problema con il buonico che ho durato! Eh, eh, eh! Bisogna fare un lavoro... Oh, che paura che ho! Buongiorno! Buongiorno! Adesso le faccio parlare con la dottoressa, Elisabetta! Elisabetta, la Lili! Lili Gruber! Lili, ciao! Ma mai ti hanno parlato quando erano soccorsi? Mi sono caduto con la bocca! Eh, ho cercato la destrezza del pilota, non è confermata con la guida! Eh, 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 eh! Ma la dottoressa del pronto soccorso mi parlava che sei caduto perché hai visto il dinosauro che attraversava la strada! Tu vuole vien farlo! Due, 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 due dinosauri! Beh, non ci sono i dinosauro! Per una scuola con me! Io faccio l'infermiare! Poi l'altro giorno ho curato con una cavalla! Poi l'altro giorno ho curato con una cavalla! Che mondo di animale! Hai assunto una notabile quantità di alcol! Eh, no, superfacente! Allora dobbiamo chiamare il sarto! Vieni la consulenta! Vieni la psicologa del sarto! Vieni la psicologa del sarto! Vieni la psicologa del sarto! Che barmone che arriva dal psicologo! Che male che mi hai fatto! Direttamente dall'alcologia! Io ho un po' specifico dell'alcologia! Tu vorrei sapere cosa ha bevuto e quanto ha bevuto! Che diverte? No, un bicchierino! Dai, dai, dai! Un bicchierino! No, no, poco, poco! Tu hai sbibuto sulla gomma! Sbibuto sulla gomma! Sì, sì, sì! Ho dato dentro! Mi piace, no? Non per perdermi! No! Questa era grande! Anestitizzante! Diamo ne tirate tutti quelli di anni! Non per perdermi! Allora... Allora ero col mio amico Tortola! Chi è tutto Tortola? E' un ragazzo di Grau, della mia classe! Grau! Che siamo del 78! Sì, sì! Siamo stati di lato! 78! Sì! Lui è stato bocciato! Tanti anni! Tanti anni! Tanti anni! Tanti anni! E io sono davanti con gli studi, no? Allora ho trovato questo mio amico Tortola! Mi pare che si chiama... Toni può essere? No, è via! E lui è un ragazzo che non beve tanto! Meno male! Non abbiamo bevuto una birretta! Una birretta! Una birretta sua! Giuro a parola di Lupetto! Però fra un po' di Baleanali, perché abbiamo fatto di Baleanali di Baleanali... Gli analisi, non mente! Sono primario io! Io ho bevuto benzina! No, no, no! Stupfaccevoli! Cosa? Allora ho preso di tutto dalla mia vita! No, no! Non ho preso di tutto dalla mia vita! Tocca! Che droga hai preso? Ho preso! Ho preso! Non ho preso da parare nessuno! No! Infermiera! 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 La psicologa! E' una zecca! Massimo! Se la psicologa! La psicologa! Se la psicologa! E abbiamo bevuto due bine! No, ma vuoi! Ti ha detto che ti avevi fatto stupfacenti, i robbi! Oh! Oh! Qualche chilo di coca! E dove l'hai preso? Quanto li pagano a te? Non ho visto niente! Grazie! Stai! 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 Ma dove ti senti male? Allora! Oh! Quanto è possibile! Non stai! Non stai! Non hai male! Aspetta che vediamo quella presa del chirurgico! Oh! 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 Orsi c'è mio padre! Mio Papà ha un cane! Buon bajo! distortion del mille! Noo l'altro giorno era tutto la scelgo thai, essere le grazie. Ok! Tone lunghe! La mamma da cartellosa era quella dina. Ok! Perché quella valenta, allora il cane mio papà l'ha presa e sono nato io. E finiamo i giorni d'oltre, la moglie c'è una volta. Io sono un ragazzo con riaceo. E' sposato? Quindi qualche volta. E' di qualche volta? E' attualmente? No, probabilmente che ce l'ho... Mi ho guardato in attuale... Anestetizzate. Adesso io c'ho una ragazza... Non mi ho tornato in dietro, era l'aceo... Io c'ho una persona studiata. Perché ho la Laura. La Laura. Io sono studiato. Ho la Laura che mi vuole tanto bene. E che è la Laura. E che è la Laura. Allora chiamiamo Laura. Eccola Laura. La facciamo chiamare. Laura! Laura! Laura, vieni qua. C'è un po' di telefono? Eh, io ce l'ho studiato. Ce l'ho studiato perché c'è la Laura. Laura, vieni qua. Dica qualcosa. No, non muoio un po' di regnini. Ma non muoio un po' di regnini. Ma lasciamo a parlare della dottoressa, no? Ma ma sei pa' lordo? Che sei pa' lordo? Attenzione, sono al primario! Io chiamerei. I familiari non collaborano, purtroppo. Eh, bisogna avvitarle di regnini. Ma letta io! Io ho un cucinio! Come è andata? Come è andata? Io vediamo sui familiari. Io c'ho un cosigno! Io c'ho un cosigno! Da me è il cosigno! Io, io, io! Da me è il cosigno! Da me è il cosigno! Io, 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 io! Da me è il cosigno! passiamo il caso a lei no no no, ho il mio migliore amico sentite, è il numero 6 sentite, dottoressa io ho il mio migliore amico mi chiama Bobbo firmo me se devo operarlo firmo io infatti che delle bobole ultimamente lo operiamo se Charlie si va in la vita lo opereremo opereremo, opereremo opereremo cosa volete tagliare? tutto lasciatemi qualcosa i capelli i capelli i capelli i capelli i capelli i capelli super gente capisci con che faccio eh non mi ha vengato nel real che non è presente non mi ha sentito che la rova è niente che si si ma che sì no no si ma che sì ma che sì che cosa è fatti come lo è Grazie a tutti.